Oggi è un giorno speciale per l'Italia tutta e per Pastrengo in particolare. Sono due infatti i compleanni che oggi abbiamo l'onore di festeggiare. Il 150esimo anniversario della nostra splendida patria ed il 163esimo anniversario della travolgente carica di carabinieri di aria a cavallo che con eroico sgancio permette di travenzago e sovrano, Re Caprarderto, pericolosamente esposto alle scariche di tucinerie austriache. Questa pagina di storia è ben impressa nelle menti e nei cuori degli appartenenti all'arma dei carabinieri così come lo è nelle menti e nei cuori dei ciladini di Pastrengo che da quel lontano 30 aprile 1848 sono uniti indissorubilmente da un legame fraterno. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.